non sono molto a fuoco ciao a tutti sono tornato spero si senta si si sente ciao evviva potere pelato a tutti come state? avete fatto cose belle? avete visto cose simpatiche e interessanti? avete mangiato dei cammelli? perché questa è la vera domanda del giorno ma ne parleremo dopo di cammelli mi pizzica il collo non so perché forse ho un'infezione batterica ciao come state? potere pelato già 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 ho finalmente ricominciato l'anno nel senso che sono tornato in fumetteria ed è bello sto bene oggi sono andato a prendere la tuta da sci bello non scio da tanti anni non so quando ho sciato l'ultima volta non ne ho la minima idea penso tantissimi anni potere pelato ho perso ieri con la parrucca no potere pelato era sotto la parrucca non ho mai sciato che brutta cosa no io sciavo molto quando ero pampino perché quanto io ero pampino mi portavano tutti i cazzo di weekend in montagna e io li odiavo è perché io volevo stare a casa a farmi i cazzi miei tipo a giocare con i miei giocattoli e invece no mi portavano in montagna grande ermi wav wav come le onde audio due mesi top evviva evviva ho comprato shade of wav sto aspettando che mi arrivi a casa bravo anche io ho comprato dei manga in realtà Amazon me li porta domani addirittura due giorni per portarmi dei manga inaccettabile eri già pelato da bambino? no avevo i capelli poi li ho tolti e ne ho fatto una parrucca quella che usavo ciao Maz ieri Maz era qua mi ha portato le scatole se eravate alla live di Kirio avete visto anche le scatole ma ora sono in un punto della casala in cui non le vedo ma ci sono però in compenso ho giocato a ok su prato eh non faccio giochi con le palle o di gruppo o cose di questo tipo lo sci è bello perché lo fai da solo ciao totello di zucca ciao Kevin ciao Sghino ciao fratelludo ciao a tutti se non vi ho salutati viva le palle il re delle palle sì esattamente non lo so non so di cosa parlarvi stavo giocando prima di venire qua sono ancora in fase molto non ci voglia di fare un cazzo e quindi stavo giocando a Persona 5 Royal e ho rifatto lo stesso pezzo tre volte perché ho sbagliato delle cose ti vedo ancora sono sempre stanco la stanchezza è il mio stato normale perché dormo un po' dormo male dovrei cambiare il letto e cambiare anche il divano credo ma non ne ho voglia costa però vorrei tanto cambiare il divano sarebbe figo cambiare il mio divano fa schifo al culo ed è colpa di Raff ormai la conoscete quindi posso dirlo è colpa sua l'ha scelto lei quel divano di merda le lo vendo stanco è stato su Facebook di Umberto è non lo metto lo status hai portato avanti Demon Soul ho ucciso il primo boss volevo farlo in live ma poi l'ho fatto non in live però non era molto difficile l'uccisore del primo boss ci sarei girare attorno e ammazzare i cosi e l'ho fatto ciao Chirara e stai giocando a guardia della galassia non ce l'ho a guardia della galassia fai vedere il divano no non posso c'è sopra una coperta dei piatti dei fumetti una maglietta dei cuscini e altra roba per cui non si vede il divano c'è troppa roba sopra l'anno è stato conquistato ciao la bottega del nerd e quindi non vi faccio vedere il divano però è un bel divano non è uno bordello tutto ha il suo ordine particolare è un ordine intrinseco oh ciao freddo mi sono messo la copertina sono anziano fai vedere un esempio su internet e non so se si trova ancora che cazzo ne so boh l'ho preso qua cinque anni fa tipo ciao Juma vediamo divano come cazzo si chiama il negozio non mi ricordo più mondo convenienza divano letto mondo convenienza c'è ancora la ricerca ma no questi sono più decenti del mio il mio faceva cacare infatti probabilmente non lo vendono più beh è tipo questo in effetti no non è tipo questo non c'entra una minchia boh ma fa cagare non c'è neanche il non ha nemmeno il come si chiama lo schienale ha dei cuscini al posto dello schienale dei cuscini che si appoggiano al retro del divano e non è molto pratico fa cagare appunto comunque non ve lo faccio vedere perché non lo trovo e cosa ne pensi di Ash e del colpo di cena finale boh l'ho letto vent'anni fa che non me lo ricordo se devo essere sincero come finiva Ash ciao dear Samaritan benvenuto e grazie e ciao anche a testa di paparino benvenuti entrambi e boh Ash è carina non è mai stata una serie geniale è semplicemente leggibile è un ottimo punto d'ingresso per Batman se qualcuno vuole iniziare a leggere Batman secondo me manette per adulti Amazon sicuramente le trovi ma quelle col pelo o senza pelo intendi signorino Antonio cioè manette nel senso devi scoparci o devi arrestare qualcuno erano quei divani sotto i 200 euro non lo so ma Marco ribadisco sono passati 5 anni che cazzo mi ricordo devo fare una specie di cosplay al comico allora non lo so col pelo lo sapevo ovviamente perché ne ho un sacco ovviamente per fortuna che oggi sia andato in live ieri mi ritrovi a vedere Caverna che leggeva in scan il nuovo manga della Arakawa sì ma sai ma beh ma sai d'altronde è il solito discorso per Caverna che giustamente tu le cose non le pubblicano i capitoli in Italia quindi tu devi lucrarci sopra leggendoli in scan durante una live ma in fondo cosa ci può essere distorto in questo bella scoperta questo canale istituzione un hub come me in tema manga ok ha senso giusto metti il pipo nella circonfe non ho capito ok comunque va bene ma dove lo pubblica il nuovo manga della Arakawa di cui ne parlavano oggi su Kiryu che stavo guardando l'avevo acceso ok in realtà si è distruttissimo dicendo che ha shonen gangan e che il team di Scanlation non ci guadagna però effettivamente hai ragione dicendo che ha shonen gangan ehi sti cazzi ma non lo leggi in scan in live non lo puoi fare cioè il concetto è come tu non puoi vederti i film in live non lo puoi fare stai lucrando con la pirateria eh lo so asfufu ma non lo possono fare è il cioè allora io il discorso delle scan è il solito se tu sei il tizio nella tua cameretta che si legge le scan non sono d'accordo ma non fai dei grossi danni se tu sei uno streamer su twitch e una delle tue principali fonti è leggere in live dei fumetti inediti in italia in una versione illegale è non è bello perché stai guadagnando tu tu Gwenverse non ho capito se esce in italia già no eh lo so che è sbagliato nel sistema il problema è che è il solito discorso stai guadagnando sulla pirateria non lo puoi fare no no ma lo dico sempre che è illegale allo stesso modo principe dei draghi ma il concetto è tecnicamente quello che se tu lo fai in live stai commettendo un reato che per cui potresti anche essere ripreso molto semplicemente il concetto è che tu stai guadagnando perché tu guadagni in sub e pubblicità su qualcosa che non è di tua non è tuo cioè è come se io prendessi manga che ok ho pagato e ve li faccio vedere e li leggiamo completamente in live pagina per pagina non lo puoi fare dai madonna Antonio grazie per il prime ciao sono apprezzato che succede ma niente è il solito discorso sul leggere le scan in live perché io lo trovo abbastanza ingiusto poi per carità è il solito discorso fai vedere qualche tavola non è il massimo ma è un discorso se te le leggi completamente in live no perché sennò vaffanculo cioè sennò vale tutto è il solito discorso vale tutto vale tutto chi se ne fotte io mi strappo mi strappo la pelata in live no no così e vabbè comunque vogliamo dirlo apprezzo di più Chirio che almeno fai del suo in modo comunque legale anche se ogni tanto un po' esagera forniremo un patto di ferro di non lo so no in realtà Caverna ha smesso di leggere Berserk perché Panini gli ha detto chiaramente che se non la piantava gli facevano causa è risaputa questa cosa no era un po' che non parlavamo di ma non ha fatto body shaming ha fatto allusioni sessualmente esplicite su persone che non avevano voglia di ricevere queste allusioni sessualmente esplicite che in realtà insomma era un po' una roba da bumerone mi ha inviato un link in privato grazie perché è un po' oddio che palle perché se ti sei innamorato di sto cazzo di divano che palle dov'è non me lo fa vedere perché non me lo fa vedere si è rotto ah no c'è un tasto schiacciato ok ecco perché è questo no non è questo ma no è di quelli con l'isola con i cuscinini schifosi divisi se ne sono mille di divani di mondo convenienza cioè adesso te lo trovo così sei contento adesso lo facciamo vedere a tutti se lo trovo ma probabilmente non c'è più no non credo non esista più è vecchio è vecchio no adesso andiamo tutti su mondo convenienza così ci guardiamo tutti i divani facciamo contenente di qualità allora così reaction oh mondo convenienza leggiamo le scan di mondo convenienza allora divani letto vediamo se c'è ancora il mio divano accetto i cookies credo non ci sia più no nessuno di questi eh non c'è più non c'è più perché fa cagare al cazzo comunque fai conto è tipo questo come idea però non c'ha questa parte qua cioè non ha questa parte qua e i cuscini non sono dei cuscini decenti tipo questi ma sono dei cuscini di merda per capirsi cosa ne pensi delle opere di Neisan e Resod l'isola dei bambini non lo so guardiamo i divani in live devo fare la roba per comp sì facciamo donation divano per pelati che è esame ok il Resod ho visto l'anime Resod dei bambini dimenticati non l'ho letto e sto sto collezionando ma non sto leggendo l'ultimo manga quello che stanno pubblicando si vede una parte di divano nelle vecchie live beh sì le facevo dal divano comunque è lì fa caccare ma si è visto anche credo più volte comunque bello il divano grazie per avermi fatto prendere questa piega alla live sui divani è stato molto bello interessante ma io direi di guardare dei fumetti no non ho un nuovo divano è un vecchio divano stavamo dicendo che il mio divano fa schifo al cazzo il problema del mio divano è che praticamente non è più imbottito all'inizio un po' era imbottito poi con gli anni è diventato sempre più schiacciato e adesso è una merda perché in qualsiasi punto tu ti metti del divano ti fa male la schiena quanti metri quadri è la tua magione 7 miliardi di metri quadri possiedo un'intera un'intera nazione nell'armadio è un armadio tantrico quantico dimensionale una dimensione specchio sacca poltrone e sofà voglio un divano Ikea perché l'Ikea è bella perché l'Ikea è vera perché l'Ikea ama e lo fa una notte intera già dammi un divano Ikea andiamo tutti live dall'Ikea convinco Mauro una volta Mauro mi portava spesso all'Ikea era bello un armadio tipo Narnia sì quello dei Fumeo quello dei Manga Ikea ha più pezzi dei Lego io adoro montare i mobili dell'Ikea è una cosa che mi diverte un sacco ho fatto anche una live in cui montavo i mobili dell'Ikea vero vero è bello è un divano bellissimo scusate non sono informato sulla lore ma chi è Mauro ma come chi è Mauro come chi è Mauro adesso fu fu corri su adesso no non è bisogna che metto le cuffie perché sennò si sente un casino ciao sono le 7 del mattino mi rappresto a partire per Luca ho sonno e aspetto il mio coperno di viaggio che arriva col furbole eccoci in partenza per Luca siamo già fermi perché una macchina sta parcheggiando è lui Mauro quindi fra circa 3-3 ore e mezza 4 saremo a Luca yeah siamo a Tugo Ovest una bellissima area di servizio più o meno siamo a metà strada e piove e c'è una strana nebbia bello eh yeah siamo arrivati a Luca e ora in soli 30 minuti raggiungeremo Luca è il mio autista è Mauro perché è pieno di parteggi oggi è lo visto esattamente così l'autista mancia sembrava il Luca Molinari no stiamo cercando di raggiungere la Japantown per leccare della gente ma non so se ce la farete per leccare della gente ho detto no proviamo leccare gente un'altra volta smetti a ridurre l'iniziativa ah che bella Luca ve la ricordate? quando era piena di cosplay senza mascherina e invece adesso bella o mamma mia Mauro è riuscito da un buon credo sia nel 2018 sì il 8 novembre 2018 l'ho pubblicato i cavalieri dello zodiaco ma che bello quando potevi ancora leccare la gente a Luca adesso invece è vietato ciao guarda ci sono Shaza e un altro che non mi ricordo più come si chiama ciao Mauro sei sempre tu uno strano Daitan 3 strano Goku la gente in fila Odino chi è il signore? era uno che era venuto in Giappone col Doc Manattan anche la tipa che belli cosplayer si no no ma c'erano i cosplayer ma quando è che non c'erano i cosplayer? quando non lo facevano nel coso adesso Mauro è sposato no ma forse convi non lo so non glielo chiedo io dovete capire che io non chiedo le cose ai miei amici per cui so che credo stia con una che conosco ma non ne sono certo e non so se vivono insieme non so niente perché io non non faccio domande perché non mi interessa potere pelato invitano in live ma no poi viene qua a sfaradoccia non c'ho voglia siamo nella piazza centrale di Luc e dietro c'è un biglietto grazie a Baltasar 90 per il follow follow pelato solo a me sembra Edward Norton è Edward Norton secondo me è chiaramente lui siamo allo stand di Netflix non so se si entro ma non voglio scoprire c'è troppa coda oh piovosa Luc com'era bello quando ancora pioveva Luc Mauro assomiglia a Nathan Never ciao siamo guardati nella nostra casa di non mi ricordo dove come si chiama questo posto Monte Catini Terme non è vero attraversa qualcosa va bene non sappiamo dove siamo assolutamente comunque ci siamo arrivati senza troppe difficoltà c'è un centro commerciale mettono male del buco si forse accenderemo non sappiamo ancora abbiamo la cucina una tv non esattamente piatta basi fiori cose Airbnb usate il codice pilato su Airbnb per avere uno sconto no non è vero cose per la colazione bagno con doccia e bc incredibile una enorme stanza da letto con letto matrimoniale armadione anche tv ah ovviamente Mauro ha dormito in sala una bella cabretta abbiamo pagato in 2,58 euro in tutto quello è il letto di Mauro Mauro quello è il suo letto vedete sento un video ah no devo chiuderlo da qua sono sono le sette e mezza del mattino e torniamo a Lucca prima però andiamo a fare colazione che era da McDonald McDonald no era chiuso McDonald in realtà quasi decente stranamente evviva che tipo dipende dell'azio ma quanto fuma Mauro molto è un tabaggista e c'era molta gente quella mattina non è questo non è questo vai dritto ma non è questo lo vedi che non c'è perché allora dovete portare dritto è tutto in direzione è più in là cioè ti puoi in realtà hai questa ragione poi è là ti dice le cose il Burger King era tipo era tutto chiuso in realtà non c'è più esatto ma è là ha mai sorrido Mauro non sorride noi non si sorride siamo delle persone tristi si voleva andare a fare colazione da Burger King che è il famoso Burger King è chiuso che bello fare le reaction a me stesso mi piace molto se l'ho sempre pensato guarda è chiuso lo vedi però manca un pezzo in realtà non vedete un pezzettino del video però molto più americana è grassa no non esiste la colazione da Burger King credo non esista si può fare uno sticker un pacchetto sticker di Mauro sarebbe molto divertente farlo secondo me poi glielo mandiamo che schifo senti gustare i rumori ma forse era il mio video e quanta giornata mi farei compa si guarda ma Mauro è tipo la persona più placida dell'universo niente il il McCaffè apre alle 9 perché quindi andremo nel bar Bella Zio che ci sembra molto più interessante Bella Zio Bella Zio Luca Comics col fiorino esatto io verso Luca non è un fiorino credo però si una fresca mattina di sole secondo l'iPhone verso le 10 doveva piovere non so se è cambiato il meteo vediamo Bella Zio oppure fare i pacchetti sticker delle persone senza mascherina anche e anche a Luca non danno più pioggia per oggi incredibile una Luca senza acqua va che bello Luca col cielo col sole sembravate due corrieri non so se mette a fuoco ma cioè case fanno prozzi e poi Pinocchio che non è affatto inquietante no ma va c'erano già state un po' di volte io ci sono andato anche quando c'era ancora nel palazzetto Luca ma si e non lo so che cosa sia non è un fiorino il fiorino non è chiuso in genere credo dille che avevate pacchi di fumetti da rivendere le gamete ovvio era pieno di quello un po' meno inquietante ma un po' più bizzarro qui vicino c'era Collodi purtroppo non andiamo a Collodi che sta su per la montagna sarà quella cittadina che si vederà in fondo che vuoi dire? mauro vieni a San Donà con il furgoncino ora gli mando una foto a Mauro aspettate con cui non parlo da mesi ovviamente vediamo quando è l'ultima volta che ho scritto a Mauro no no si chiama uomo del top beh il 14 novembre gli ho scritto mi hanno mandato una faccina si appare però Luca quando ancora non è stra piena di gente è quasi vivibile tra l'altro cosa è di non averla mai vista così collegamento con Mauro da casa sua ospita Mauro in live per favore adesso gli mando anche questo aspetta ho fatto un po' gli acquisti e ora cerchiamo di raggiungerla a Panini e dovremmo averci la fatta ma lo spero Zfufu le figurine del kart c'è quella è l'uscita un po' perché sono in fila davanti all'uscita ma in realtà potrei fare il vlog di kartumix ce li ho alle registrazioni solo che non avevo voglia a 150 abbonamenti vlog di kartumix Games Week siamo a 105 mai Jason perché nessuno dei due è pelato hanno un po' di Iron Man comunque quella bellissima idea di lanciare il fumetto a 24 pagine i vecchi occhi di fanco mi sveglia la tua voglia di lesbicità che bella Panini quando erai a 200 sub Umberto mangia una pizza fritta su lungomera di Napoli cantando sì esatto ora andiamo alla Japantown che ieri non abbiamo visto una mazza oh no la pubblicità KIKOMEN che cazzo è sta merda che cazzo è sta merda vabbè non lo scopriremo mai l'ho fatta una volta solo la biglietteria a Luca è stato un incubo ecco qua non sembra più di essere a Luca Comico che musica è angosciante sotto a parte per qualcuno in lontananza che non so se si vede nel video però è giusto molto molto lento bene siamo in un vicolo questa è Luca Abbandonata un nuovo format di pelati e fumetti a quest'ora non c'è ancora coda per entrare a Japantown Japantown Abbandonata ieri abbiamo fatta tipo 20 minuti buoni e poi siamo usciti subito perché dovevamo beccare della gente quindi non abbiamo visto nulla profondo rosso abbandonato la cosa in compensa la facciamo alla stand della ban presto bandai vabbè è Luca per favore ci sono un sacco di pelati ooooh delle cose statue le sue Mauro parla un sacco in questo video no Mauro non parla nella vita è muto no non è muto in realtà è passivo volete il vlog di quando vado a vaccinarmi? intanto devo andare fra undici giorni ecco questa potevo farla un po' più veloce in effetti questa parte di video forse qua siamo andati un po' lenti avrei dovuto velocizzarla un po' e togliere i pezzi si vede che non c'avevo più voglia cioè qui sono fermo mezz'ora cioè è bello eh però si vede che mi sono dimenticato di editarlo questo pezzo fortunato te Jason fortunato te non è un mobile Antonio per fortuna è passivo non è un divano oh l'ho già pantata siamo all'altro Raduno evviva l'altro Raduno col Doc Manattan e Mauro e Luzione ma un altro Mauro quando abbiamo fatto Raduno Luzione non vedo lo stand Bonelli eh non so ma chi Mauro? no non lo porto al comico F F F è la E se si è seguito il Doc Manattan quella è F cioè si è già viste ero 30 anni sei diventato un 2 e 3 sono 2 e 3 questa ripresa rotante è bella è fatta bene facciamo la foto mi piego mi piego ma non ho avuto lì se l'altro inconti per tempi più civilizzati si beh non è che ce la faccio la gente ancora facciamo un video io passo piano piano eeeh come si fa? facciamo la più moderna cantiamo la canzone cantiamo la canzone del minollo eeeh questa cazzo qui da vita sto soffrendo mi fa male il ginocchio il Doc chi è la F? F è la compagna della Smanatta è una delle 6 ragazze che ci sono in questo gruppo fondamentalmente siamo in questo bow come hai canto panso ciao quindi chiudiamole la tristezza se ne siete ma è finita noi pulled è ancora qua adesso finisce il video e guardiamo il sacchetto non so perché sto andando tutto il video credo per seguire proprio tentazioni però che figata basta ma quanto dura ancora? no è finita dai una bacchetta di... oh è la bacchetta del tono di spada? i mini mini di green del mondo ah no partite oh una parata di... cosplayer ZURL c'è anche Tarma in questo video ah si c'è anche Tarma, ciao Marco Luca Comics è finita torniamo a Milano se vi è piaciuto questo video mettete un like e continuate a seguirmi e mantenete la destra al bivio, ciao che bel video, un video bellissimo capolavoro, capolavoro diciamolo insieme, capolavoro capolavoro per potere pelato c'erano tanti Spider-Man effettivamente una marea di Spider-Man fan ti stava intorno? no avevo tipo tre... tre follower in cui hanno fatto questo video dal 2018 non facevo nemmeno colazione a fumetti quando è uscito questo video facevo soltanto un video alla settimana praticamente capolavoro vedi Cristian era il era il prologo al film di Spider-Man quella look ben prima che avessero queste idee mille Spider-Man allora, guardiamo il fumetto più bello che è uscito questa settimana non è vero la morte bianca ah quindi lui è morte bianca? cioè la sua rappresentazione a fumetto è questa? non lo so hai visto Morbius? io non ho visto non ho visto Matrix c'è ancora la settimana prossima ci sarà ancora vado a vederlo perché io volevo vederlo perché? sono qua ma magari è bello secondo me è bello a me i disegni piacciono un sacco cioè io guardo le tavole di sto manga cioè di sto franga e mi piace le tavole sono così cavaliere dello zodiacose che a me piace molto sono cavaliere dello zodiacose vedete cioè visivamente non mi dispiace ma perché Albiero è bravo mi fa un po' più paura mi fanno un po' più paura i testi effettivamente però poi è pure firmato guarda mi ha fatto pure il disegno che bella calligrafia che ha Albiero tra l'altro cioè ma guardate come scrive bene io scrivo di merda si ma non è che c'è barba scura nel fumetto ma come fai se c'è barba scura e adrian in questo fumetto? cioè cosa ci fanno? boh non ho idea ciao capcomics e se avessi vinto la lotteria regalerai mille abbonamenti appellati fumetti grazie eh? che stai dicendo capcomics? Dario ha vinto la lotteria e non segue più il canale ah ok ah sono il sottofondo perfetto ok ok ora ho capito va bene e mi sai che hanno donato? no io dubito che hanno donato loro grande Dario che regala un abbonamento Dario sei il mio utente preferito ce l'hai già il vip vero? sì se no te lo ridavo vuoi un super vip? non lo so un iper vipamento una cosa così boh comunque vediamo il video dello scritto no no Dario mod eh non credo che voglia fare il mod io il mod lo do solo alla gente che vuole fare il mod se non c'hai voglia di fare il mod è inutile infatti cioè non c'ha voglia non voglio rompere le palle a gente che non ha voglia di fare il mod mi sembra un po' inutile capcomics se vuoi puoi unirti al nostro bellissimo gruppo telegram io te lo dico se ne hai voglia puoi venire lì ci senti maltrattare gli altri streamer parlare male di tutta quella gente brutta tipo kirio tipo che altro è che mi sta simpatico ma che in realtà voglio ufrodissarlo non lo so boh maledetto kirio tutti tutti tizio parliamo malissimo del tizio qualunque sempre sparmiamo anche i peni nel gruppo certo sì 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 quel cretino ah sì tipo capcomico il cretino che ama cap è vero è vero che schifo capitano america in effetti non è il mio personaggio preferito però vabbè il gruppo è pieno di wifu anche in realtà qualche ragazza c'è non tante ma qualcuna c'è ci sono anche foto della pelata nel canale telegram esatto ma quell'esperimento che avete fatto con kirio e altri streamer non l'ho fatto qual era l'esperimento io non l'ho fatto vero non stai parlando con me non lo so e comunque vediamo cosa ho comprato un fumetto un fumetto random non so cosa sia guapa e devi scrivere il punto esclamativo sub ti arriva il link e che è grazie fcor 88 oddio mi hai regalato un pulimento a bon road e anche a michele mari ma che bello ma grazie un sacco fcor benvenuto cioè benvenuto ben ben regalato grazione comunque in onore di una justice league è nata never immagino e qui si va di per mezz'ora adesso chi è c3vo tv non lo so però e si è stato rimanuto più aperto si? ciao umberto 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 e no l'hypetrain funziona se uno dona 5 abbonamenti non funziona perchè l'hypetrain conta quante persone donano cioè se tu sei una persona singola e doni te lo da se doni 5 abbonamenti lo conta come uno e dovresti farlo più spesso Dario ti ridoppio io i soldi umberto oh è partito un hype train perchè banana we si è riabbonato per 15 mesi grande grande banana we stasera è festa grande grande festa alla corte pelata questa sera c'è un pelato in più pelato ti chiamerai tu OP ma come è il livello 3 vabbè magia eh perchè si vede che li conta cioè probabilmente ha contato i 5 ma non li contava per farlo partire che stranezza che ha Twitch però eh grande però siamo arrivati al livello 3 così sigla? ma no scusa mentre c'è l'hypetrain non metto la sigla ti pare? bisogna invugliare la genere volete la sigla? vi metto la sigla faccio un cazzo di video ok ciao c'è un ragazzo molto fortunato pieno di lego con un bel lego si chiama Umberto ma per gli amici è pelati e fumetti tutti i giorni vi dice le cose nuove che escono e tutti i giorni vi monta i gumblack come si fa a non volerli bene perchè lui è pelati e fumetti pe 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 lati e fumetti 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 ciao sono tornato non ho capito questa cosa ma è stata bella mi è piaciuta ciao elenad09 benvenuto si è una sigla bellissima ringraziamo tutti i brisen andate a seguire brisen so brisen qualcuno faccia so brisen andate a seguire brisen che è una bravissima streamer ed è in live anche adesso quindi non andate a seguirla adesso però tocca fare un nuovo stemma per gli abbonati sì è vero è vero bisogna fare un nuovo stemma devo farlo ultimamente c'è carenza di Gundam sono d'accordo bisogna ricominciare è che non li posso comprare perché al momento non è un gran momento per comprare i comics c'è Gundam c'è questo piccolissimo problema comunque stavamo guardando questo fantastico Justice League Not Never che bello doppio universo con cyborg beh dai i disegni non sono brutti però di chi sono i disegni? non si sa perché non c'è scritto un cazzo direzione speciale in tiratura limitata al modico prezzo di 3,50 euro come uno spillato più di uno spillato panini sceneggiatura di Michele Medda Beppi Vigna Edrano Barone disegno di Sergio Ghieggiardo posso dirlo che non mi fa impazzire sembra tanto un fumetto Bonelli rispetto ad altre cose e loro sono i Borg perché la Justice League si deve combattere contro i Borg c'è un motivo sono chiaramente i Borg di Star Trek sono uguali grazie Oliver Dacour15 per il follow e grazie anche a Fobf Minus Foa per il follow che non l'ho ringraziato quando esce l'albero di grigli dicola quello più grosso non lo so non ho guardato ecco questa mi piace già di più non è male che poi sono le due copertine ma preferisco sinceramente preferisco la versione a matita della versione in china guardate la faccia di Superman cioè è molto più bella qua posso dirlo che la trovo tanto meglio qui che qui 100.000 iscritti entro febbraio la butto lì eh speriamo cioè speriamo no che poi devo fare i video però hanno donato 5 abbonamenti Bojack semplicemente ed è stato molto bello comunque non ne so nulla in realtà di Justice League Not a Never certo ancora aspetto Dylan Dogg Batman però vabbè immagino arriverà oh ma ora mi ha fatto gli auguri vi chiedo Natale anno nuovo o compleanno e grazie a Luca5409 che mi ha seguito evviva ho anche ricevuto una fantastica emoticon di livello 2 che ora vi condividerò perché è ciuff ciuff hype fail bella è un lupo che si è fatto male tipo bello no ego349 nessuno ha Dylan Dogg Batman avete abbiamo il numero 0 di Dylan Dogg Batman ma deve uscire ancora la storia di Dylan Dogg Batman fa la stessa fine di Sin City Integrale è possibile comunque a parte questo guardiamo un altro fumetto questo numero 0 è uscito in quella lucca lì credo oh sapete questo è il manga Goen che mi è piaciuto di più di tutti i numeri uno che ho letto finora l'ho trovato divertente il numero uno perché c'è un mistero ricorda è un po' stile coso sembra un po' sinceramente anche nella scelta grafiche come si chiama oddio no ma questo è bello questo è il numero 2 non è il numero 1 è il secondo numero di Elk fondamentalmente comincia così c'è l'eroe umano che deve sconfiggere cioè che ha sconfitto il re demone abbastanza standard no Casagiro è bello Casagiro però è una cosa che non è un manga di secondo affoscia come questo ecco con l'headgame sì ecco tipo Freeran esatto però la differenza è che mentre Freeran segue gli eroi questo manga qua si sposta nel mondo dei demoni dove stanno facendo un torneo per decidere il nuovo re demone il problema è che all'interno del torneo si candida anche Elk che è l'eroe umano che ovviamente è più forte di chiunque altro bravissimo in tutto e tipo con dei problemi mentali credo però contemporaneamente ci sono dei misteri perché nel mondo umano nel frattempo ci sono tipo degli angeli che combattono è un casino ed è affascinante l'ho trovato molto piacevole non è un capolavoro però con tanta merda che gira non è niente male sembri Gianluca Iacono però sei più magro e giovane glielo dirò cioè se guardi non c'è più mi sa la live di Luca però nella live di Luca c'eravamo io e Gianluca Iacono in realtà perché facciamo parte della stessa agenzia di modelli di agenzia comunque è uguale solo a Roberto se no sono uguali a tutti quelli che non hanno i capelli e hanno la barba diciamolo no Elk è davvero bello 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 cioè no adesso è carino rispetto a tanta merda ce l'hai un po' la voce del doppiatore eh lo so sì sono un esperto hai letto L'Occhi Fratelli di Sangue? penso di sì a suo tempo ma non so dove sì sono Tommaso in Giappone e infatti siamo a Tokyo adesso se volete vi chiamo Yuri 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 vai via figlia non apparire in telecamera così Yokio non si chiama Yokio si chiama Yuri sua moglie credo oddio io ho la memoria di niente sono uguale a ecco sono identico a The Rock lo so sono solo un po' meno abbronzato di The Rock hai manga di Dragon Ball Super se intendi Dragon Ball Super con DBS sì purtroppo li ho manga Yoh Yoh comunque Elk ne parlerò presto in un video perché mi è piaciuto molto e quindi voglio parlarlo leggerò prima il volume 2 palesemente uguale a Claudio non ha la barba Claudio Bisio in genere Yuri è un nome russo eh dillo alla moglie di di Tommaso hai un po' di muscoli rispetto a The Rock sì lo so sono molto sono una montagna in realtà per quello mi inquadro sempre solo fino qua per non farvi sentire in imbarazzo è tornato l'artbook di Komi su manga Yoh cosa faccio lo compri su Amazon Giappone Bojack ok aspettate allora facciamo un gioco facciamo un gioco allora sarebbe questo no non è questo no questo è troppo poco ovviamente questo è Variant Plies sto cazzo ma esiste? ci stai buggerando? non vedo un artbook c'è solo questa cosa qui e questo coso qua direi oh questa è la rivista è Manga Shon Giappone e no ma sarà il solito Bojack che ci trolla o che dice minchiate l'official fanbook ma l'official fanbook non lo compro mi fa cagare in giapponese non lo compro semmai lo farò nell'italiano anche ma non riesco a usare i punti non so che dirti oh finalmente poi si finalmente si niente Bojack non ci dice più un cazzo perché ha deciso di spararla lì e poi andarsene grazie Bojack sei sempre il mod migliore della cumpa te lo dico torniamo se torna ne parliamo un altro manga non è un manga eh la novel di mi sono reincarnato in uno slime no non l'ho presa Lorenzo Scafuto non compro le variant di roba che ho già sono tutti fumetti che ti hanno regalato si sono andato lì loro me li hanno regalati e poi siccome mi facevano un po' tenerezza gli ho dato dei soldi presumo di averle lette sì Arcovab no adesso anche tu lettore di novel ebbene sì sono un lettore di novel e vi dirò di più ho già letto i primi le prime 53 pagine vi faccio notare questa bellissima finta carta telefonica di tarm non mi ricordo come si faceva ad averle però le ho sì esattamente Azufufu non era vita la slime tecnicamente la traduzione letterale credo mi sono reincarnato in uno slime almeno del titolo inglese però cambia un cazzo vabbè tra non leggerla e essere interrotto preferisco leggermi un pezzo non è che me le leggo in un'altra lingua me le leggo in giapponese al peggio tanto in inglese non c'ho voglia di leggermene per cui poi tanto c'è il manga al peggio mi guardo come finisce il manga cazzo mene comunque è carina si legge con piacere alla fine il manga è uguale ci sono le immagini disegnate da Mitzvah ma io non mi metto a leggerle in inglese se ci sono in italiano poi eventualmente se proprio non dovessero mai più andare avanti e mi sono innamorato della novel me lo compro in inglese al peggio ho appena iniziato a leggere fumetti americani del mio personaggio preferito marvel loki consigli? no no perché cioè non è che loki abbia mai avuto tutta questa a parte di recente non è così semplice trovare storie in cui loki non è il cattivo è quello il problema cioè loki ma erano carine le storie quelle di journey to mystery però io sinceramente non ho idea di dove trovarle grazie a team shall hs per il follow benvenuto cioè le storie quelle lì di journey to mystery quelle successive alla morte del loki vecchio che diventa poi il loki giovane erano fighe loki agente di asgard anche però non è una delle serie che adoro di più cosa ne pensi della novel sequel di evangelion che non l'ho letta per cui non ne penso niente ma non è sequel poi è tipo un è tipo credo sia tipo una cosa alternativa grazie anche a kstasso per il follow benvenuto kstasso perché hai evidenziato delle emoticon luca è bello però fascinante sono un emoticon di un tipo che fa dario senpai e poi oh my god oh my dog ok comunque anche lol loli fratelli di sangue avevo accetto prima merita tanto sì per i disegni infatti ci sono un bot di robottoni fichi e infatti è un mondo alternativo sì c'è tipo il super eva ho letto qualche cosina così di info ma non l'ho mai provata ah comunque Mauro mi ha fatto gli auguri per tutti e tre che è caro scusate qualcuno richiede la mia attenzione sui commenti ma se lì non trovo visione Scarlett Vitalioni e sulla parte l'hanno rinviato non lo so devo guardare vabbè ma non me la ricordo fratello Ulta è tutto lì era i Bic giusto i disegni credo penso ciao Azip chi è Brando dio Brando cosa ne pensi del Thor di Aaron sicuramente è il ciclo migliore di Thor recente devo dire che non mi dispiacevano anche i cicli precedenti non gli ultimi non mi ricordo che è successo prima di Aaron anche perché il ciclo di Aaron è durato mesi e mesi Vota Loki mi sa che non era proprio il massimo della vita più che altro a me quando Loki l'hanno fatto crescere a me piaceva molto quel Loki bambino che cercava di trovare il suo posto nel mondo per poi essere per poi finire molto male non era male però il problema è che il Loki del film non è il Loki dei fumetti mai hai letto Helsing poi? no non ancora è là addio addio è un gioco qualcuno ha capito quali sono i problemi di Luca 5409 perché io io no misteri hai un Mismart band 6 si è qua mi serve per guardare l'ora e controllare i miei battiti ho 76 battiti al minuto sono un po' tanti mi state facendo diventare nervoso vedete grandissimo questo Luca no più che altro sono le persone strane che ogni tanto arrivano qua oggi ho recuperato Blacksad che non l'ho mai letto Blacksad e quindi non so cosa pensarne ma Jane Foster Thor con il cancro fumettistico cos'è il cancro fumettistico comunque i miei problemi sono i tuoi stessi ok no ma mi chiedevo cos'è che cercavi di comunicarmi ma non l'ho capito e questo era il problema però ok e per precauzione comunque proseguendo cos'altro ho comprato a parte la novel fantastica di cosa guarda le emoticon evidenziate sì ho capito Manuel non sono stupido è che cercavo no vabbè non va in permaban per questo su fate i bravi è solo che cercavo di capirlo che fanno un manga bellissimissimo non farò Kiryu e non lo leccherò non tormentarmi Naga Toro con lei schiacciata e poi niente sì Christian cosa ne penso fa fare la parte della run di Aaron era leggibile non era male sì Driller riscattalo subito riscattalo adesso fallo strappalo strappalo che è in no è carino lone wolf and cub evviva donne nude gente che si mena gran belle tavole oh 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 questo è un disegnatore è un disegnatore vero che sa disegnare e wow 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 e uno potrebbe chiedersi ma com'è che loro riuscivano a disegnare bene anche mo addio luca hai rotto il cazzo non c'è solo a capire se dare priorità a questo a samurai executioner quello che trovi io vorrei vorrei recuperarlo samurai executioner sinceramente intendi gente come te zuka no intendo gente come i mangaka attuali tanti mangaka attuali il prossimo torno a tali portman interprete jambapà si christian zaka jambapà lo sappiamo benvenuto nel mondo in cui lo si sa da due anni è qua perché ieri l'ho fatto vedere nella live di kirio e devo leggerlo a un certo punto quindi se me lo tengo in giro magari prima o poi lo leggo dark devil 33 l'hai preso? non lo so era l'ultimo numero sghino se era l'ultimo numero l'ho preso se no no non mi ricordo che numero ma non l'ho preso questa settimana se è uscito è uscito due settimane fa l'insieme si trova un po' a meno lo spazio per tutti quei volumi grossi non ce l'ho eh sì però l'immortale non wolf and cub non è ancora uscito il 33 e allora non ce l'ho allora non l'ho preso quindi è interessante no non è molto interessante vedere Natalie Portman che fa tor sinceramente però io le ho messi in una billy all'ultimo piano di una billy stanno lì deve ancora uscire il terzo in realtà è vero non è uscito non me lo sono perso io giusto non è uscito ancora il terzo il quarto l'ultimo però immagino che arriverà prima o poi forse no stavamo vedendo questo giusto quali incredibili perché lei è sempre in costume boh vabbè ora non è in costume è in pantaloncini bello vabbè fa molto ridere non è un capolavoro del manga però è divertente però c'è qualcuno qua che mi scrive per favore però non dovevano farlo pagare 6 euro dovevano fare l'edizione senza senza sovracoperta così lo pagavamoci 4 euro e 80 no perché jipop non le fa quelle edizioni statizia è volgare hai ragione vergogniamoci vergogniamoci sì ma sapete tutti che il sito panini è cioè è come giocare così esce magari sì magari no non voglio vedere il manga senza sovracoperta no no li vogliamo tutti senza sovracoperta perché è colpa della sovracoperta se costano tanto ce lo dimostra ad esempio Dinit che ce li fa tutti senza sovracoperta però i suoi manga adesso costano tutti o 16,90 euro quelli con la copertina di cartancino che si rovina oppure quelli plastificati che costano 12,90 vai vai Dinit bella scelta farci pagare cioè farci volumi stile Tankobon un po' più grossi così costosi li compro tutti soprattutto se sono dei banalissimi shonen che si comprerebbero tranquillamente chiunque magari a un prezzo umano Ikari non scherza ma non è a quei livelli lì e fa cose decisamente più di nicchia e questa è la differenza e Drillard allora il problema è che probabilmente non c'hanno più soldi e GTO è l'unica cosa che vende ma tra l'altro la cosa che fa ridere è che non è esaurito GTO io a Cartoon Mix avevano tutti i cofanetti completi e che ne so ma non credo fratello Uldra perché volevo dire Drillard 31 dato che non l'ho visto nei vari video acquisti pensavo che non l'avessi comprato strano adesso guardo se c'è se c'è ti banno cioè ti banno non è vero però ti banno non è vero ma ti banno o forse ti banno o forse no allora vediamo Pilati e Fumetti il mio canale ciao e benvenuti a questo video non parlare zitto 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 questa è in press questa è in press mmm mmm qua non c'è effettivamente e Kuro si è inventato delle nuove edizioni di Prenzetti del Boy dice che le pagine sono trasparenti pessime qualitativamente non lo so non l'ho comprata ma perché non fai una cooperazione con Kuro una di queste sere perché già lo vedo quando facciamo le live di Astromic ma infatti Asuka di The Knit ha detto che ritirano dal mercato la vecchia edizione l'argentata gli cambieranno solamente sulla coperta adesso io non mi senza neanche stampare di nuovo lei però scovare i titoli ma la The Knit è sprecata ma di cosa state parlando? bambini sicuramente faranno le edizioni di riccanza per money grabbarci quando finirà o sarà o sarà per finire One Piece One Piece vende se fanno un'edizione figa One Piece vende ma non fai un'edizione tra in uno fai un'edizione figa magari in formato un po' più grande con sovracoperta e vende e vende io lo ricompro One Piece con un'edizione bella perché? perché One Piece con un'edizione bella con le tavole grandi però devi farmi le tavole quanto meno come una Kanzenban possibilmente anche più grande però vende cosa ne pensi del più su YouTube prima per esempio dei tuoi video ma brutta testa di minchia perdonami ma secondo te brutto coglione cosa ne penso del fatto che è l'unico modo che hai di guadagnare su YouTube virgola coglione punto ma che cazzo di domanda di merda è virgola coglione punto ma parco me lo bannate per favore grazie è stupido ma io non lo so ma che cazzo di domanda è ma che poverino ma perdonami ma è come se vengono a te e ti dicono no ma ascoltami panettiere ma tu cosa ne pensi del fatto che fai pagare il pane cioè non potresti fare il pane gratis ma magari non lo sapeva cosa cioè la pubblicità perché c'è secondo voi ma non so se qualcuno vuole anche chiedermi cosa ne pensi della pubblicità su Twitch ma è sempre così ma su che cazzo no non bannatelo fate i bravi non bannatelo ma che fan lui viene qua a trollare da quando esiste lo avevamo anche bannato e per uscire dallo sbanna ha cambiato account e che cazzo però su dai ci sono delle cose che mi triggerano tipo quelli che non vogliono valutare il lavoro delle persone no non è Paolo Pollo è un altro è la mascotte del canale no mi triggero quando non si rispetta il lavoro delle persone semplicemente perché chi sta su internet non lavora e per fare video su YouTube ci vogliono ore e se ci mettiamo la pubblicità è perché se no non lo fai gratis e capite che se tu passi ore a fare video su YouTube non puoi passi ore a fare altri lavori e quindi in qualche modo devi mangiare comunque volevo ancora controllare se per caso oh ma in questo video qui non ho messo l'indice ma che cosa brutta ma pensa io li faccio sempre poi se non li metto sono proprio coglione rompono più il cazzo di pubblicità nei manga che compri pure oddio no però ok comunque Daredevil forse non lo hai comprato o non lo hai fatto vedere non lo so è strano è che non mi ricordo quando è uscito scusate eh però ora io non vorrei dire però adesso compri anche i fumetti no eh mh ribadisco vi ho messo il link apposta devo farvelo vedere va bene il numero 31 ancora una volta scritto da Chip Zdarsky i numeri con checchetto i disegni sono sempre incredibili e al momento è fondamentalmente la migliore serie Marvel in pubblicazione insieme diciamo a Hulk che però sta finendo anche quello comunque grande Zdarsky checchetto da leggere Devil super super lo so ditemi voi a me sembra che ci sia che è che è reaction direi che c'era sembra evidente sembra evidente autofrebooting di platform ah stavo facendo vedere che effettivamente l'ho preso e c'era nei video che cazzo qua mi si piglia in giro mi si prende in giro e allora vi le beccate Wonder Woman ho preso anche Wonder Woman 22 che non volevo prendere non ero sicuro di prenderlo ma poi l'ho preso no il primo video del canale non lo guardiamo a chi si mettete il vip a chi si abbona a chi si abbonava una volta era per chi si abbonava adesso invece il vip lo diamo alle persone che dimostrano di essere particolarmente generose tipo quello di prima che mi hanno donato 5 abbonamenti a cui mi sono dimenticato di fare qualsiasi tipo di segnalazione di amore ma ora lo farò anche se credo non scriva mai però ora glielo do vip fcore 88 ok evviva ora è vip hai splatter edizione lizard non credo il vip è stato dato ai primogeniti del canale sì cioè all'inizio veniva dato ai primi che si abbonavano adesso non lo do più a tutti quelli che si abbonano anche perché non ho vip infiniti lo do a quelli che comunque dimostrano o mi mandano o donano qualcosa al canale o si super impegnano non lo so quando gioggeremo a demon soup bello demon soup però è un bel titolo devo dire non lo so quando capita la mia è stata la scalata più veloce grande signorino Antonio ma è un vero uomo wonder woman non lo state vedendo adesso lo vedete fumetti a cosa serve il vip a niente a dire oh sei vip è una sorta riconoscimento del tuo stato viposo comunque la nuova wonder woman è morta tipo si è risvegliata nel nell'ade cioè no non è vero nel valala e questo è tor perché si tor lo può usare chiunque no in realtà la differenza è che un vip può ad esempio scrivere i link in canale mentre gli altri in teoria non lo possono fare no il vip non può scrivere se è solo abbonato credo credo ci siano delle cose però è un barbaro è tor è molto più credibile così tor di come nella marvel soprattutto la vecchia edizione marvel quello biondo rasato questo è un tor molto più credibile comunque ci sono stati tor in un sacco di fumetti oh guarda questo direi che è udino così a prima vista e questo è uno è uno scogliattolo con un corno bene col codino il martello triangolare non mi ricordo il martello triangolare sai che martello era comunque il mio tor preferito resta essere metti il vip sicuramente gli metto il vip a christian se si avviene al coin che non ti posso abbracciare no perché c'è il covid la mitologia nordica ha copiato marvel mettendo tor è vero è vero sì non solo ma la mitologia nordica è anche un po' razzista e quindi ha inserito nella sua mitologia solo personaggi caucasici tipo posso offrire una super colazione certo io mi faccio offrire qualsiasi cosa ah ma quando era quando non era tor fondamentalmente era eric masterson mark erickson insomma thunderstrike era proprio il nome del supereroe cioè prima è stato tor per un po' e poi è diventato thunderstrike sì me lo ricordo si abbracciate con le tute che indossano gli infermieri in terapia intensiva no ci abbracciamo ma con dei preservativi giganti come in una pallottola spuntata io pratico il sesso sicuro anch'io che bella scena sì sì credo di sì era il torco del metto prima però lì si faceva passare per tor perché il vero tor aveva avuto i soliti casini non so quali non mi ricordo per tanto non le ho lette quelle storie ma anche perché da noi le hanno pubblicate un po' poche quelle storie non tutte penso e cioè era marvel italia ai tempi non le voleva pubblicare perché facevano cagare fondamentalmente quindi ha ricominciato a pubblicare tor dal ciclo di deodato ed ellis credo warren ellis e deodato junior tifi calcio no non sono un norm e cotolette e panzerotti bello ecco cosa mangio questa sera la cotoletta ma abbiamo l'ultimo fumetto del sacchetto siete ansiosi eh è la nuova vita di nina non è vero è il decimo numero di made in ebis evviva ancora cose strutturalmente devastanti farà terribilmente senso quello che succede lo so già no non lo so in realtà niente nudità vediamo di qua ma vi siete messi tutti d'accordo a farmi le stesse domande oggi me l'ha chiesto prima cosa un uomo coso no non tifo moto gp su peccato pensavo dal ciclo di dan slot la conosci chi è che mi citofona pd che cazzo è domicidio si sto lavorando è meglio perché io in questo male qui sto lavorando grazie che cosa strana gli inquilini del terzo piano che sono passati a presentarsi è una cosa inquietante ma siamo a Milano io non ho parlato neanche non si è mai presentato neanche quello davanti a me spero non tornino mai ma poi c'è il covid magari erano follower no erano erano gli inquilini del piano davanti cioè del piano di sopra del terzo piano io infatti è andata così non so se mi avete sentito sì salve siamo gli inquilini del terzo piano dei nuovi inquilini sì e quindi non è anche aperto siamo passati per presentarci ok ma io sto lavorando in questo momento è un po' un problema boh non lo so ciao Antonio benvenuto non lo so terzo piano ma voi sono al primo non abbiamo nessun tipo di rapporto perché siete venuti al primo piano da me pelati e fumetti pepepe pelati e fumetti sono a che piano sono io sono al secondo ah sono sopra di me non sono quelli subito sopra dice che hanno battuto il bambino non lo so problemi con la portinaia no eh voi non attaccarti il covid avevano una mascherina eh bravi però siamo in Italia dobbiamo essere tutti amici ma siamo a Milano io non ho mai parlato con la gente un po' gente gente di mare che se ne va dove gli pare ma dove non sa magari c'era una bella ragazza e un bel ragazzo sembravano due belle ragazze sembravano una bella ragazza e un bel ragazzo se devo essere sincero però avevano la mascherina magari sotto la mascherina le leccessi però boh sono in live sono uno streamer boh threesome probabile mi hanno visto e hanno detto wow che bell'uomo vogliamo fare un threesome body shame ci saranno rimasti male secondo me si saranno offesi tantissimo però boh gente di mare che se ne va hanno già cambiato palazzo ah ok boh possiamo andare in collaborazione con gli inquilini del terzo piano body shaming mi bannate Luca5409 che non sta non sta fornendo nessun tipo di anzi no facciamo una bella cosa mettetemelo in silenzio per dieci minuti non peraltro ma perché ogni suo messaggio non ha senso devi presentare sì cazzo sarebbe stato bellissimo ciao sono pelotti e fumetti i nuovi vicini che poi due minuti dopo ti invitano a cena per farti vedere la loro nuova casa eh what inquilini del prossimo film MCU eh eh che ragazzi mi state un po' stranendo questa giornata vabbè azfufu succede dai non è così male però concedi il problema è che tu segui caverna vedi se tu non seguissi caverna non te l'avrebbero regalato comunque è sempre carino e piacevole made in abyss è un manga che mi piace molto anche se devo dire che gli ultimi volumi non li ho graditi quanto quelli precedenti però vediamo un po' ho fatto che la storia è diventata un po' boh io credo che a un certo punto i giapponesi smettono di creare di spiegare bene le trame e fanno cose c'è scritto pelati e fumetti certo no c'è scritto st boh non lo so stronzo stavo pensando di togliere il nome così se qualcuno passa non mi può trovare no vabbè è già strano quando ti hanno citofonato sì vero è strano che mi citofoni la gente non mi citofoni quando mano diventerà mia giovenna lo porterò alla fabbrica del vapore per fare eh non lo so quasi stacco perché mi state preoccupando bisognerebbe fare la top manga in cui la trama inizia e finisce coerentemente minchia ne troviamo tre di manga che fanno così c'è sempre il punto in cui a un certo punto arrivano a un certo punto e no non l'ho letto arrivano a un certo punto e dicono ehi o non so come andare avanti o sto perdendo sto perdendo successo e boh su lore magazine c'è la top manga di caverna non so cosa sia lore magazine hai mai pensato di creare dei fumetti? no non sono uno scrittore di fumetti Luca mi è sembrata una bella live fino ad ora eh grazie ma come entrano in casa mia c'ho la porta blindata il magazine della lore eh esiste il magazine della lore non lo so sono confuso tra l'altro ho questo cosa nell'orecchio da ore senza nessun motivo perché non sto ascoltando niente eh pepe repe credo sia una pagina Instagram che spiega chi sono tutti gli amici di da giusto ma i video tutorial su youtube non ne fai i video tutorial eh sono in vacanza non so se si è notato ma sta settimana sono in vacanza quando hanno bussato è successo qualcosa io ho sent mi sono mi sento eh ok bene giochiamo con i lego giochiamo con i lego con pelati e fumè storta così guardate quanto è bello questo set lego cioè quanto cazzo è bello è bello o no? cioè questo era il set di Ninjago il film ed è uno dei set più belli che ho alla fine cioè è veramente fichissimo e tra l'altro adesso vi farò vedere anche i particolari più belli no non ho provato Guardians of the Galaxy Rubber meglio di Luffy no comunque io dico Ruffy perché sono abituato alla versione italiana cioè guardate quanto è bello questo coso a parte la polvere ma vabbè guardate guardate gli interni quanto sono dettagliati ma non solo perché queste parti si staccano facendo ti vedere l'interno che non viene messo a fuoco perché la telecamera è scema e dai metti a fuoco brutta telecamera di merda ok ma non solo perché anche questa parte si toglie e sotto c'è il letto tra l'altro letto utilizzabile perché tu puoi prendere il personaggio togliergli la sua stupida arma e metterlo nel letto no mi è caduto ma quanto cazzo è figo e tra l'altro si tolgono anche altri pezzi solo questo si toglie mi sa di sì c'era pure il cessetto mi ricordo dov'è il ciasso qui c'è il cessetto guardate il cesso c'è il lavandino la carta igienica è il cesso ma quanto è bello hai mai fatto costruzioni in live sì più volte in realtà è uno dei migliori set lego di sempre le serate model kit torneranno sicuramente sì chi può dirlo magari questa stessa domenica o magari no più probabilmente no credo settimana potrebbe questa domenica dubito perché vorrei fare una live con i fumetti che ho letto e ne ho tanti e quindi lì si può fare una bella live una lunga e magari faccio quella domenica il canone lego è bello ma non me ne rimarrà nel cuore sempre quello playmobil quello playmobil non l'ho mai avuto quello lego ce l'ho ancora montato di là videogiochi per ogni gusto per ogni età per ogni lustra eh what cosa sarebbe il model kit sarebbero i modellini montabili in plastica tipo Gundam che era una delle cose del canale ogni giorno avevi fatto vedere un bagno lego nella stazione di polizia sì c'è anche lì amano fare i bagni lego nei modellini e abbiamo visto il veliero dei pirati dei caraibi sì non ce l'ho però è figo anche quello era molto figo però costava anche un patrimonio questa qua costava relativamente poco non mi ricordo quanto però i set ninja avevano anche la cosa figa che per quello che costavano ti offrivano veramente tanto ora è un po' carico di polvere perché sta sopra una libreria sto coso e dopo ce lo rimetto però notevole è veramente notevole qua è grosso poi c'è un sacco di c'è un sacco di oggettini collegati c'è solo sti cosi qua che adesso questo cade probabilmente anche questo sta cadendo direi ma queste qui si muovono tipo le ancore scendono è veramente sarebbe forte fare la piramide di carta igienica anche nei bagni lego si effettivamente non ho mai capito se Ninjago è un anime o no in che senso Ninjago è un anime no è una serie animata americana perché dovrebbe essere un anime tra l'altro in CGI per cui proprio non ha nulla dell'anime dovresti metterlo in una vetrina ma sta là sopra la libreria non ce l'ho una vetrina che cazzo di vetrina trovi poi in cui mettere una roba del genere cioè devi farti fare una vetrina su misura comunque penso che vi saluterò così con in mano il lego vi faccio un ride lo squal è la roba più bella anche lo squal è molto figo non so a chi farvi un ride a chi ve lo faccio chi c'è in live facciamo a Brizen no però l'abbiamo appena fatto a Brizen in effetti lo facciamo a non lo so boh decidete voi a chi lo volete fare ma a Leda l'abbiamo appena fatto gliel'ho fatto tipo l'altro ieri lo facciamo di nuovo a Leda però gliel'ho fatto tipo l'altro non mi ricordo guarda che gliel'ho fatto tra amicizia con Volpe no a Caverna non glielo faccio a Caverna non è inutile fare i ride a Caverna c'è 600 persone in live ciao Dario ma non lo faccio a Ivan Greco ti ho detto che c'è 600 persone in live lo faccio a Ivan Greco ciao Titoville80 è vero che è pelato però facciamo retro gaming facciamo retro gaming dai no seguo quello che mi dice Maz che lui ne sa ovviamente se non è live mi arrabbierà molto vediamo ecco c'è davvero anche perché non lo seguo è vero che non è vero che non è vero che non è vero che non lo seguo